John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, me l'avete chiesto, me l'avete domandato, lo avete voluto, lo avete ottenuto, eccolo qua Eccola qua la ricostruzione, la rebuilding del Cagliari dopo la retrocessione disastrosa Finchè non vince la UEFA Champions League Prima di iniziare come sempre vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi E lasciate anche tantissimi, ma tantissimi, ma tantissimi piace qui sotto Se volete altri video di questo tipo, mi raccomando, ricordatevi che ogni giorno alle ore 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.35 Ogni giorno esce un nuovo contenuto, commentate qua sotto, spagandomi sapere quale altra squadra volete che io faccia Detto questo, oggi tocca al Cagliari, andiamo a dare un'occhiata a questo Cagliari perché va ricostruito da cima a fondo Allora, abbiamo Vicario in porta, che lo richiamiamo subito e lo vendiamo Voi direte, ma come? Sì ragazzi, abbiamo Craglio, ci teniamo Craglio, va bene così Aresti se riesco lo vendo, Radunovic me lo tengo A sinistra abbiamo Miangue, 68-24 anni e Ligogiannis, 68-27 anni Ovviamente vado a rinnovare il contratto a Ligogiannis e poi lo vado a vendere Mentre Miangue lo richiamo e me lo tengo come il panchinaro doc E che cazzo anche Miangue è in scadenza, rinnoviamo il contratto anche a Miangue Poi al centro abbiamo Altare, che io forse presterei, non so quanto possa diventare forte sto Altare Ragazzi, ha 64-22 anni, boh, non è che mi convinca granché Goldaniga me lo tengo per la panchina perché voglio fare di meglio Carboni per la panchina Baluchievic per la panchina, quindi Goldaniga lo vendo, ci ho ripensato Lovato, allora aspettate qui c'è un problema Cepitelli, si rinnova il contratto, sicuramente si rinnova il contratto a Cepitelli e poi si vende Obert si presta, quindi vi dicevo, Goldaniga no Carboni, sono indeciso raga Allora, e mo che ce fammo con tutti quei Lovato e Baluchievic rimangono per la panchina, Carboni si presta E per forza, bisogna fare delle scelte, la mia scelta è questa Zappa si vende, 65 è troppo poco Bellanova si tiene per la panca A sinistra abbiamo Dalbert che si vende Poi abbiamo Kevin Strootman, no è in prestito da noi Strootman Che peccato raga, era una grande possibilità di far soldi No, niente, Baselli, si rinnova il contratto di Baselli e magari si vende Rogue, se riesco Rogue lo tengo Curfalidis lo presto De Iola lo vendo Marin al momento me lo tengo Grassi, è in prestito da noi anche Grassi Gaston Pereiro al momento me lo tengo A destra abbiamo Tramoni che vado a prestare Nathan Nandez che mi tengo Allora Tramoni me lo tengo per la panchina Luvumbo si va a prestare Pavoletti, Pavoletti raga si vende Sto video l'avevamo già fatto quando arrivo a Mazzarri Adesso ci troviamo a rifarlo per la retrocessione Galliano lo prestiamo Keita Balde me lo tengo al momento va benissimo Joao Pedro me lo tengo al momento va benissimo Simeone lo richiamo e ci monetizzo Ceter gli rinnovo il contratto Ovviamente abbassando drasticamente questa cifra qua E poi lo vado a vendere proprio Ceter ragazzi Altro che in prestito Allora diciamo che bisogna capire con quale modulo vogliamo giocare Al momento il modulo questo qua non è adatto Dovrebbe essere più un 4 Tipo questo dovrebbe essere Al momento forse è il modulo migliore Quindi con a sinistra Ligo Giannis Non centrale lo prenderemo Centrali, Lovato e Valuchievic A destra Bellanova A centrocampo si Main e magari Rog Sono tre quarti Caston Pereiro A destra Nathan Nandez A sinistra al momento c'è Dalbert davanti Allora fermi un attimo perché il discorso è molto semplice Il discorso è che Keita Balde Ragazzi cioè magari tipo che ne so Gagliano me lo posso tenere per la panchina Ma Keita Balde va trasformato immediatamente in un altro ruolo Può fare l'esterno a sinistra Allora va bene così Dispiace perché sul mercato quello prende un centinaio di esterni E invece li abbiamo già gli esterni So Keita e Nandez Dobbiamo sicuramente rinforzarci in toto E dobbiamo partire dai terzini probabilmente Andiamo a vedere se il Giovane della Primavera È magari qualcuno di forte O che sia una Pippa Arzuco Beh è un po' una Pippa Arzuco Russo È 66 Promoviamo in prima squadra Sperando che Russo riesca a fare un'altra Un upgrade importante Magari non dà alla Perché è tanto sempre nel ruolo in cui abbiamo già tutto Più due difensore centrale Meno due terzino Più due difensore centrale raga Niente vabbè non è che sia sto granché Russo Vabbè comunque lo trasformiamo in difensore Da punta al difensore centrale Io non ho parole Ma va bene così 14 settimane tra l'altro Dai ma veramente raga E poi va prestato Poi va prestato Vabbè andiamo a fare sto torneo precampionato Perdiamo sto torneo precampionato Vediamo un po' come si mettono le cose dai Allora terzo Vediamo un po' C'è perso Vinto Vinto E vai passiamo il turno Tutti i soldi che ci servono come il pane Intanto è partito Ceppitelli Per un milioniotto dal Trabzospor Contro l'Union Berlin Vinciamo Addirittura siamo in finale del torneo precampionato Dai che ci arrivano i soldi Finalissimo contro il Watford Dai vinciamo No abbiamo perso i rigori Vabbè va bene uguale Però peccato Intanto è partito Vicario per 11 milioni di euro Al suo Tempton Così come d'Albert per 2 milioni e 2 al Bordeaux So che qualcuno l'avrebbe tenuto Vicario Però raga qua bisogna fare una scelta Per fare un po' di soldini E qua dobbiamo prendere sicuramente 1 barra 2 terzini Il centrale Insomma abbiamo un po' di lavoro da fare Allora io partirei da Aiki a sinistra 73 di overall 19 anni Magari c'è Casca Dobbiamo poi trasformarle in realtà Perché questa è un'asa Però secondo me Se riusciamo a convincere A darcelo il Bologna Sarebbe tanta roba 8.2 Beh c'è una buona parte Un buon inizio di trattativa 8.2 6.9 6.9 6.9 8.2 Loro ragazzi non demordono Cerchiamo di abbassare a 7.2 Almeno Dai mi sto avvicinando tantissimo 8.2 Niente non c'è nulla da fare 7.5 Dai 8.2 Assurdo comunque 7.5 7.7 Accetto Non voglio perderlo Mi serve da morire Aiki Raga sarà il nostro terzino di sinistra Mi va bene così tutto sommato Tutto sommato mi va bene così Aiki io penso che se riusciamo a lanciarlo Tra qualche anno ce l'abbiamo ancora Ed è un super titolare di questa squadra Gli offriamo 13.000 Che è più o meno quello che prendeva Bologna Ok lui vuole qualcosa di ingaggio Lo ingaggio glielo offriamo Va bene Preso Aiki Poi l'altro nome insomma devo capire Perché l'ante costa troppo Però potremmo provare a prendere uno tra gusto e livramento Gusto non l'abbiamo mai preso Prende 12.000 Livramento prende 11.000 Dai prendiamo gusto Prendiamo gusto che mi dà più gusto prenderlo Scusate questa era veramente triste No però avete capito Nel senso mi piacerebbe prendere gusto Un giocatore che non abbiamo veramente mai preso 10.9 Allora Cerchiamo di calare 7.9 Quindi andiamo addirittura sotto quello che avevamo offerto noi 10.9 Alziamo 8.9 9.1 Vabbè dai 9 si chiude A 9 si chiude sono sicurissimo Sì esatto Si è chiuso A 9 si è chiuso ragazzi Gusto è nostro Vuole essere importante Ci sta Stiamo facendo le prime mosse Quelle fondamentali per migliorare la squadra Poi pian piano verrà tutto da sé Ogni giocatore che esce un altro entra Però per il momento visto che i soldi ce li abbiamo 13.000 anche a lui Forse lui vorrebbe un po' di più No c'è stato 13.000 gusto Perfetto Bisogna cambia subito ruolo Aiki Prima che mi dimentico Che deve diventare un terzino sinistro 5 settimane Vabbè Aspettiamolo 5 settimane Nel frattempo mettiamolo titolare Quindi mettiamo Aiki qua Che tra l'altro non potrebbe farlo adesso E Gusto di là Prenderei un centrale Almeno ne prenderei due in realtà Però almeno un centrale secondo me va preso Stavo pensando O a Lukeba Però costa tanto O a Kossonu 16.24 Kossonu Kossonu 14.21 Lukeba Proviamo a prendere Lukeba da Lione Sono giocatori validi tutti quanti Tutti poi da Cagliari Nel senso non stiamo facendo niente di Eccezionale sulla carta Però le cifre sono altine Stiamo spendendo circa 10 milioni a colpo E non è un mercato che il Cagliari farebbe Ma che grazie alle cessioni stiamo riuscendo a fare 11.1 12.9 Ci dice lui No io ti dico 10.9 Così ti impari 12.8 Quindi lui un pochino cala Io ti posso di 11 Dai facciamo 11 e chiudiamo così 11.6 Certo che rompono proprio le balle 11 E tutta la clausola tranne 1 11.5 Il 21% Vabbè 11.5 Lo accetto 11.5 Lo accetto Dai mi sono stufato Prendiamo Lukeba Lo prendiamo Diventare il nostro titolare Poi vicino sarebbe carino mettere Kossonu Kossonu Però anche qua bisogna cercare di fare delle mosse in modo intelligente Quando parlo di mosse in modo intelligente Intendo che Tipo Bisogna prima vendere Simeone Facciamo qui Facciamo 15.000 Perché Lui è più forte dei suoi coetane A cui ho dato 13 Se non vendi Simeone Non hai i soldi per prendere Kossonu E quindi è una mossa che va fatta Comunque la squadra sta crescendo bene Cioè la stiamo costruendo nel migliore dei modi Qui Lukeba Capiamo adesso cosa fare Alledetto tornò pre-campionato Eravamo così tanto vicini dal vincerlo Prestato Obert per due anni Intanto c'è Keita Baldi che è pronto a cambiare ruolo Speriamo anche che cresca No non è cresciuto Vabbè dai già è qualcosa Già che ha cambiato ruolo Mi sembra Qualcosa di molto positivo Intanto ci sarà il match di Coppa Italia contro lo Spezia Però raga Dobbiamo vendere qualcuno anche Allora noi dobbiamo rinforzarci sia a centro campo Che come difensori centrali Seriamente pensano di mettere Simeone qui dentro Perché è vero che vale tipo fino a 20 milioni di euro Ma tanto non me li danno quei soldi Quindi piuttosto Quanto vale Simeone 14? Vediamo che ci dicono Eh non gli interessa Dicono a me no Mi interessa E ci sta Li capisco Gli do Baselli Più 10 milioni Più 11,2 Dai È perfetto È fatta È fatta È fatta Forse ho speso pure troppo Ma mi va bene così Datemi Nico Gonzalez Ma prima o poi sto cazzo di Simeone lo venderemo Qualcuno se lo prenderà Ma raga Nico Gonzalez a centro campo è un colpaccio pazzesco Ok preso Nico Gonzalez Abbiamo speso anche 40 mila di stipendio Prendeva 60 mila circa A Barcellona Siamo riusciti ad abbassare lì un pochino l'ingaggio Ho paura che Mi scapocciasse Però va bene così Adesso bisogna che vende Simeone E con quei soldi comprare Dei bei giocatorini C'è il match contro lo Spezia Dai raga passiamo Se no qui è già un problema Abbiamo vinto ai rigori Che sudata Che sudata Venduto col Danica nel frattempo Sì ma Simeone Ma non parte Parte sto cazzo di Simeone Non so di motene fino a fine anno Ha vedo dura raga Ho paura che il Simeone Se lo portiamo sul gruppone Tanto ho venduto Pavoletti Per 3 milioni e 4 Al Mitilland Ma perché Perché dovrebbe andare al Mitilland Vabbè Ma perché inizio di campione Non è poi con Inter e Roma Vabbè Debuttiamo contro l'Inter Magari facciamo un mini miracolo Perdiamo 3 a 1 Bel mini miracolo Hai chi è pronto a cambiare ruolo Meno male Temevo il peggio Non sale Ma non me ne frega nulla Non mi importava salisse Mi importa solo che Riesca a giocare lì E quindi va bene così Vabbè raga La partenza ci sta Se perdiamo entrambe le partite Va bene Cioè Non è che bisogna fare miracoli Tanto presto ad altare Ho venduto Lico Giannis Per un milione e mezzo Vi giuro Sto pensando di tenermelo Simeone Perché mi dicono che costa Fino a 26 milioni Ne chiedo 19 18 E mi dicono che è troppo E allora io me lo tengo a sto punto Cioè Io non è che faccio carità E che cazzo Eh va bene tutto Ma mica davvero Tanto mi ho perso 4-0 Carmo Ma com'è possibile Ma com'è possibile Degano Com'è possibile 4-0 con la Roma Certo raga Però la squadra è ancora scarsa Mamma mia Mi dispiace che sia così scarsa Allora sto pensando a una cosa Fammi riflette un attimo Gio Pedro volendo può giocare a trequartista Così facendo Teniamo Simeone punta Gagliano lo teniamo Panchinaro Eh Sì credo che sia la cosa migliore Così rinforziamo la squadra Gaston Perereo diventa il Panchinaro Sulla trequarti Il Panchinaro di Di Gio Pedro Simeone diventa la punta titolare Dobbiamo fare una cosa fondamentale Ma fondamentale Ovvero rimandare Strottman a casa subito Prima che Rubi il posto a tanti giocatori Che dovrebbero giocare a titolari Via via Vai a casa C'è troppo C'è un Rog Marin González Insomma qualcuno ce l'abbiamo Quanti soldi ci sono rimasti 6 milioni e 120 mila Che c'è famo Niente Allora diciamo che 9 milioni ci sono rimasti In realtà Potremmo rinforzare O il difensore centrale O il centrocampista Così 9 milioni Vediamo un attimo Volendo possiamo prendere Taylor Kenneth Taylor Dell'Ajax Ugarte quanto costa? 17 Madonna Jones 16 Ragazzi Proviamoci un attimo Dai facciamo un tentativo Se no ci prendiamo Quello dell'Ajax Allora scambio giocatori Gli diamo Rog Io gli ho posso da Più 7 milioni Vediamo che ci dicono 12 milioni e 8 Senza Rog Però vi posso dire Che manca Eh vabbè ma c'è Klopp Non ce la faremo mai a piarlo 10 e 7 12 e 7 Se vabbè Raga non ce la faremo mai a più Ma Klopp De Jola Più 10 Non lo vogliono De Jola Anzi hanno fatto Bè che schifo Toto Zappa Zappa più 10 Dai 11 e 8 Raga Eh ma non ce la facciamo ancora Scambio giocatori Luvumbo Luvumbo più 10 Senza 8 Senza 9 Luvumbo più 10 Dai 10 e 4 Ho arrotti i coglioni Luvumbo più 10 E Tutta la clausola Per la rivendita Dai si bravo Perché non c'ho una lira 10 e 1 Accettiamo Accettiamo ragazzi Accettiamo lo prendiamo Accettiamo prendiamo Johnson Non so quanto prenda Spero poco Perché non c'è una lira Gli hanno dato Luvumbo Io non so come fa Madonna prende 5 Vabbè però se noi con 40 mila Sa la cavamo qui Se noi con 40 mila Sa la cavamo Ignoriamo la 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 E che cavolo Ci siamo quasi Il discorso è che Vediamo 41 mila 42 mila Dai Allora Siamo arrivati a giugno L'ho preso Johnson Alla fine sono andato direttamente a giugno Perché non ho fatto nient'altro Mi si era spenta della camera Nel momento in cui ho preso Johnson Perché poi me l'hanno accettata Andiamo a vedere come è andata Allora Vinto Perso Pareggiato Vinto Beh vinto Pareggiato Vinto Pareggiato Perso Va bene Vinto Perse Pareggiato Pareggiato Perso Perso Vinto Pareggiato Vinto in coppa con l'Inter Oh Vinto in coppa con Venezia Oh Pareggiato Perso Pareggiato Perso 0-3 con la Lazio Siamo praticamente a casa Aspettate Eh abbiamo perso Ecco il ritorno Vinto Pareggiato Pareggiato Perso Vabbè siamo usciti in semifinali Coppa Italia Il primo anno mi sembra buono Pareggiato 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 Perso Vinto Pareggiato Vinto 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 Siamo arrivati Undicesimi Beh deve essere sincero Per il primo anno del Cagliari Considerando che molti calciatori Poi sono cresciuti sicuramente Non penso che sia andata poi così male Andiamo a dare un'occhiata un attimo Per capire Come sta andando a si giocare La Cragno Perché è sceso Cragno Perché è rotto Cragno Ah ecco perché siamo calati Raga C'è tutto il tempo Radunovic Non ci posso credere Cragno si è rotto Che si è fatto Lesione flessore Anca fuori Che sfiga ragazzi Che sfiga Che sfiga ragazzi C'è dopo una partita resti Ha preso 4.8 Che sfiga Aiki sale di 3 va a 76 Miangue sale di 3 va a 71 Bene così Gli rinnoviamo il contratto Carboni sale di 1 va a 70 Altari sale di 1 va a 65 Oper sale di 2 va a 65 Valuchievic sale di 3 va a 73 Ha chiesto di essere ceduto In quanto è uno stronzo Ciao Valuchievic C'è delle offerte? No Allora più avanti vedremo Russo sale di 4 Bravo Russo Arriva a 70 Vabbè prendere il posto in panchina di Valuchievic Vantaggiato Valuchievic 20 partite Rimortacci Luceba sale di 3 va a 78 Gli rinnoviamo il contratto Lovato sale di 3 va a 76 Questo è un giocatore di pallone Questo è un giocatore di pallone No Valuchievic Zappa sale di 2 va a 67 È stato richiesto dal mondo intero Ma in prestito? Ah io ho rinnovato il contratto E sto saltando tutte le offerte Ma perché? Boh vabbè Non so come funziona sto mondo Bellanova sale di 3 va a 73 Ottimo Bravo Bellanova Vuole una clausola Gli si può anche mettere Gusto sale di 4 va a 78 Comunque tutti che battono cassa Oh no Ho messo una clausola Vabbè 71 milioni Se me li pagano Va bene Però peccato Keita Baldi Sale di 2 va a 78 Bene Keita Ahmed Sale di 3 va a 63 Questo è un giocatore di primavera Che avevo arruolato Un altro giocatore che avevo trovato 63 Bah Vabbè per la panchina male non è Marin ha chiesto di essere ceduto Anche questo è abbastanza stronzo Vedi offerte Allora facciamo Cerchiamo di capire una cosa No non va in scadenza Marin Ma allora me lo tengo adesso L'anno prossimo lo vendo Jones sale di 4 va a 79 Rog sale di 2 va a 74 Bene 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 Poi Gonzales sale di 3 va a 78 Curfalidis sale di 2 in prestito Giopetro non sale Non scende Non fa Mugaz Gaston Pereiro sale di 2 va a 78 Dovrebbe però accettare turno per perfetto Tramoni sale di 1 va a 64 Però raga va pure Tramoni Ma che cazzo ci debbo fare con Tramoni Nandez sale di 1 va a 77 Abbiamo dei giocatori che non cresceranno mai Simeone sale di 4 va a 81 A sto punto mi tengo Simeone Grande sorpresa alla fine Gagliano sale di 3 va a 66 Bravo anche Gagliano nella sua crescita Ceter sale di 2 va a 62 Allora statistiche Gol 17 Simeone 14 giopetro 13 Keita Assist 9 Jones 6 Keita 4 giopetro Allora Non è male Non è male Bisogna capire un po' di cose Partendo dal fatto che bisogna capire se giopetro l'anno prossimo se vuole vende Me lo capiremo Bisogna capire se vogliamo cambiare portiere Perché Cragno 79 Ragazzi questo io Il pensiero mio era C'ha 80 Quest'anno sale di 3 va a 83 83 ci sta 79 vuol dire l'anno prossimo dovrebbe salire di 4 Per me l'anno prossimo che è più vecchio sale di 2 Cragno Quindi penso che forse potremmo anche pensare di cederlo Cragno Di venderlo E di farci dei soldi In modo diverso Quindi magari investendoli su un altro portiere Mo' ci rifletto un attimo Allora ecco ci siamo arrivati Diamo un'occhiata ai contratti che scadono Aresti Io vi ripeto Se rinnova so che sembrerà strano Perfetto non rinnova Giopetro deve rinnovare per forza Se no ti giuro che vado lì E meno Ok rinnova Cragno si vende 28 anni Quanti soldi ci facciamo? 12 milioni E poi ve l'ho detto Io forse venderei anche Giopetro Perché è bravo Però ha 30 anni Magari cambia qualcosa E riusciamo a monetizzarci Cifre importanti Nandez è così E che ci vuoi fare? So ragazzi Dobbiamo cedere Marin Dobbiamo Perché in età me lo tengo Ancora per 2 anni 3 anni A meno che la squadra non diventa fortissima Dobbiamo cedere Valuchievic Allora qualcuno deve partire Però dopo che sono partiti questi Cerchiamo di capire cosa fare Perché qualche nome in mente ce l'ho Non parte bene sto tornò precampionato Perdiamo 3 a 2 con la Laves Vinciamo col Fosburg E perdiamo col Friburgo Che merda Raga stavo guardando che Per la seconda volta di fila Abbiamo Spezia Cagliari I playoff di Coppa Italia Prima o poi si esce così A questi ci avranno studiato Cioè An Apple potremmo via Sempre lo Spezia Tutti l'anni Prima o poi Diranno Guarda che io l'ho visto Eh Mi sembra anche lecito Allora Avete individuato il mio portiere dei sogni Il problema ragazzi È che il mio portiere dei sogni Lo sta in botto Perché il Napoli Lo vuole 36 milioni Questo costa 29 Già di per sé Noi ne abbiamo 25 per puzza Era Anderson Il mio portiere dei sogni Eeeh Stiamo perdendo tempo Madonna Quanto è forte Sto cazzo di Anderson Marin è venduto 7 milioni e 6 Se no me lo perdiamo Perché va al Napoli 35 milioni Sono troppi ragazzi Ma non scherziamo Baluchievic è venduto per 4 milioni Anderson è andato al Napoli 82 Mi piaceva un sacco Ma era venuto in mente lui Ho detto Ma sai che è quasi quasi Invece niente Ce l'hanno fottuto Prima di subito Allora sappiamo tutto su Anderson Sappiamo anche che è andato al Napoli Ve lo fa un tentativo Facciamo un tentativo Dal Napoli Così almeno ci leviamo Anche tutti i problemi Però boh 29 Viene Vogliono 40 Ma che cazzo Ma siete scemi Ma siete scemi 29 vale Volete 49 Ma che cazzo Va bene tutto Ma niente Raga ma non è un campione Non è un top player Cioè un buon portiere Ma non è Cioè 49 Poi sono il Cagliari Non te li davo mai Ma nemmeno per sbaglio Poi ragazzi Ho 35 ieri Veduto Ciò Petro Per 33 milioni e 7 Alla Roma Allora detto questo Io direi che insomma Lo andiamo a prendere Il 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 trequartista Ciò Petro L'abbiamo venduto Ed è Tiago Almata Non è disposta a vendere questo Io ti giuro Mi incazzo Perché Fino a un minuto fa Prima che vendessi Ciò Petro Era disposta Ma all'improvviso Non è più disposta Ma perché Mamma mia Spaccherei tutto C'è il match contro lo Spezia In Coppa Italia Passiamo No Abbiamo perso Il primo e poi finiva così Tanto Non è che si può passare sempre Con se mi è la Coppa Italia Ricomincio Dal primo turno Che cazzo Poi il primo turno Tutte le volte Perché c'è solo un turno Non capisco FIFA Che cazzo fai Allora Chi possiamo prendere Al posto di Cragno L'Unin costa 14 e mezzo Questo costa 19 Questo costa 20 E questo costa 25 È solo che Meret C'ha offerta Da West Ham Ma Non è che mi convinca Molto Perché per costare Così poco Vuol dire che C'ha più o meno Quanto Cragno Penso Se non di meno Allora Vediamo C'ha 80 Però ragazzi Attenzione Però non è che è in scadenza Quindi E invece è in scadenza E invece è in scadenza Con 19 milioni Te lo porti a casa Secondo voi Di vabbè Un Icy Money Te lo porti a casa Appunto Però tipo Henderson Costava molto di più Maximiano Costa Ma sai che c'è Ma io mi prendo Meret Una stagione La faccio fare A Meret Poi Poi vediamo No non paghiamo la clausola Andiamo a pagarlo 19 Perché manca 18 Anche 16 Paghiamolo 16 milioni Vediamo un po' Che ci dicono Sì hanno accettato E allora Vedi Tanto il portiere Gli ha No non gli hanno dato No hanno un culo Da noi Henderson Cioè sicuramente È più forte Henderson Di Meret Uno perché ce l'hanno inculato E l'hanno preso al titolare Due perché c'è 82 Però comunque Cioè alla fine sono il Cagliari Non è che mi si sta chiedendo Di fare la stagione Per andare subito in Champions Passo passo Step by step Si arriva ovunque 40 mila anni Vediamo che ci dice Ridicola Allora Mi fa incazzare Da morire questa cosa No Ma perché Ma perché deve essere Ridicola Niente Perderemo Meret Preparatevi perché lo perderemo Meret Andrà a giocare Allo West Ham E ci vedranno 25 milioni di euro 30 pure Venduto Cragno Per 18 milioni Meret Andrà a giocare Allo West Ham Che palle E infatti 23 anni 80 Maximiano Costa un botto Questo Costa un botto Questo È scarso Dai Proviamo a prendere Maximiano Avremmo potuto risparmiare 20 milioni Ragazzi 20 fottuti milioni Proviamo a partire Da 25 39 Io non ho parole Ma un po' da venire da me Invece da rompere Meri coglioni Con sti sordi Ne davo pure il triplo 29 37 29 3 37 3 Loro non calano Eh vabbè Un bel giocatore Cioè perché dovrebbero Darmelo a 29 Io insisto Però perché Gli serve del tempo Per riflettere Una presa male Ragazzi Avrei preso un trequartista Fortissimo Io Ero già pronto A spendere tutti i soldi Per Messi Sulla trequarti Tanto perdiamo 0 a 1 Ci credo Siamo senza portiere Inaccettabile 38 Addirittura Prima era 37 Se non sbaglio Mò 38 Niente Abbiamo litigato Che palle Sono tentato Ragazzi Prendo un portiere De merda Perché Mi piaceva Prendo un portiere Fatto bene Ma tanto Se mi devono chiedere 50 milioni Per tutti i portieri Cioè guarda Unai Simone Ma santo paradiso Meretta Ma vanno molti più soldi Ma molti più soldi Cioè 16 aveva accettato Eh vabbè Termina tra Stano scherzata 31 Manco fosse un fenomeno Se no prendiamo lui E aspettiamo che cresca Possiamo far così Dai Possiamo far così Mamardashvili Come cazzo si chiama Mamardashvili Offriamo 20 Incrociamo le dita Ne è 30 Ma che Ma davvero Valgono così tanto Sti portieri 20 30 Basta Termina tra Raga Penso sempre più Che andremo su un vecchio Almeno c'ha 85 Scusa Eh tipo Ioris Quasi quasi Cioè Viene a svernare In Sardegna A far festa Lo pago Oh 9 milioni Attenzione Lo pago 7 Che è in scadenza 9 Beh dai Ci sta Alla fine Raga 8 9 Sono pallati Dai Dammelo 8 e basta 8 8 hanno accettato Perfetto Perfetto Dai dai Va bene così Ragazzi Non è cattiveria Ma se io devo pensare Di dover buttare i miei soldi Non lo faccio Pago 8 milioni Prendo un portiere 86 Magari arrivo anche Champions Sarà anche un po' Meno solido Il progetto Però questo ci avevo E questo ci accontentiamo Accettiamo Cerchiamo di prenderlo Ai soldi che vuole lui Prima che Devo litiga pure Con Ioris Tanta roba tra l'altro Che Ioris Che importa Preso 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 Non litighiamo più Con nessuno Detto questo Vi dicevo Il trequartista A me piaceva War E è puri scadenza Quindi lo prendiamo punto Senza andare a guardare Anche gli altri Me ne frega niente Offerta Offriamo subito 35 milioni di euro E se noi accettano 38 e 4 38 36 e 4 Si accettano Ecco 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 Preso War Ragazzi Questo è un colpaccio In Sardegna Lo via War Me lo vedo La grandissima È un ottimo Trequartista Secondo me Cominciamo ad avere Anche gli 80 In squadra Sarebbe Qualcosa di molto positivo Considerando quello Abbiamo fatto fino adesso Considerando che Sti 80 Ci sono mancati sempre E basta Con queste claus Mi fa solo Perde tempo Perfetto Preso War Detto questo Mi fa un'ultima mossa E cioè Abbiamo i soldi Quindi qualcosa facciamo Ancora Allora Qui gioca War Qui gioca un portiere Diciamo che se prendiamo Però un difensore Non voglio tarpare le ali Allo vado Potremmo prendere uno Al posto di Nandez Beh si potrebbe anche fa Volendo Non è che Però deve avere 80 Però c'è 77 26 anni E che età 78 27 anni Non lo so Non saprei proprio Su chi investisse Se sono contattato Ma te ne vai Invece di essere contattato E basta Allora Difensori Stavano messi bene Io vorrei puntare ancora Sull'ovato Per un'altra stagione Non so proprio che fa Perché comunque ragazzi Abbiamo bei soldi Abbiamo 36 milioni Quindi Non è che ci riteniamo in tasca Però Non so che fare Non so che fare Con Beh credo che Nandez E che i tabalde 77 78 Debano essere sostituiti O uno o l'altro Comunque Con giocatori più giovani Sempre di quel ruolo là Eh potremmo provare A prendere Velasco Tipo Proviamo a prendere Velasco Tipo Non paghiamogli la clausola E Diamogli 28 milioni Sperando che non ci erano Più di 35 Perché altrimenti C'era la clausola 41 Ma voi siete scemi Ma possibile Che il gioco non capisce C'è una clausola E che più di quella cifra Non mi puoi chiedere 41 Non ho parole 33 No Quanta era 35 31 Dai 41 Assurdo Comunque Assurdo Ragazzi Questa c'è una clausola Di 35 milioni Mi stanno offrendo Mi stanno chiedendo 41 32 Hanno bisogno Per pensarci Non è che scade il tempo Dimmi che mi rispondono qui Ti prego Dimmi che mi rispondono il 24 Inaccettabile 41 Rifiutiamo Almeno abbiamo la settimana Per prenderlo Nel frattempo Andiamo anche per là La destra Però costicchia La destra Costicchia Sentite facciamo una cosa Allora Aspettiamo un attimo Mettiamo in vendita I nostri due esterni Quindi sia Keita Che Nandez Magari riusciamo a sostituirli Entrambi Secondo me ce la facciamo Allora Keita Eccolo qua Eppure Nandez Che ha fatto anche lui Il suo tempo Insomma Bisogna fare dei cambi C'è un cambio generazionale Speriamo che qualcuno Si riprenda più che altro C'è il match intanto Con la Salernitana Vediamo che succede Contro la Salernitana Vinciamo 4 a 1 Bravi tutti Però raga Qui non ci arriva Da manco un'offerta A noi A me stesso Mi fanno incazzare Non dico tanto Una Un'offerta Un'offerta C'è una Ne basterebbe una Per uno dei due Poi l'altro Lo metterò in cambio Che te posso dire Venduto Nandez Per 16 milioni A River Plate Quindi detto questo Dovremmo avere La possibilità Di prenderlo Quel top player Lì Velasco Ok Vuoi acquistare Contatta per acquistare Paga la clausola 35,7 Ragazzi a questo punto Li pago Tanto è inutile Cioè se me ne chiedono 41 Ne pago 35,7 Vado a trattare Direttamente Il leggeratore E poi è un casino Adesso è un casino Perché prende 7,6 E poi non mi diranno mai Invece me l'hanno detto Meno male Voi che quanto Gli avreste offerta a questo Cioè 7,6 Guarda lì 30 mila Più bonus di ingaggio Preso Velasco Meno male Meno male raga Adesso bisogna prendere Quello a destra Sono due le cose O si prende sulle mani E si trasformate là O si prende Vimmer 21,70 Ma prendiamo Vimmer Dai proviamo a prendere Vimmer Vediamo se ce la facciamo Economicamente parlare Ma non lo so Lo sai Un po' tanto Costa Allora Ali Abbiamo che da balde Da dargli Più Quanto cazzo Arrivamo A B Oh ci arriviamo a B Pazzesca Arriviamo a 20 milioni E allora no Allora partiamo da 15 Dai 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 30 ne vogliono Madonna mia Però non hanno detto No Il che mi sembra molto buono 20 Hanno accettato Hanno accettato Hanno accettato Hanno accettato Vimmer ragazzi Crescerà da morire Un giovanissimo C'ha quanto c'ha che da Ma stiamo scherzando Abbiamo fatto un colpaccio Importante Vimmer Importante Vimmer Lo prendiamo subito Colpaccio pazzesco Raga Colpaccio pazzesco Accettiamo che non ci so Clausule Stipendio 40 mila Mi frega un cazzo Se è troppo Preso Vimmer Madonna se mi diceva Che ridicolo Di giusto Con uno schiaffone Alla telecamera Faccio tanto a tutto Raga Mercato pazzesco Pazzesca Allora qui gioca Vimmer Qui gioca Awar Qui gioca Velasco Mercato pazzesco Poi puntiamo sui soliti Guarda l'unica cosa È che Vabbè a parte che cosa Ci sta facendo Aresti Qui ci gioca Radunovic Qui ci mettiamo lui Qui ci mettiamo Bella Nova Qui ci mettiamo Carboni Ci siamo Sperando che quest'anno Non si spaccano tutti Come è successo Con Cragno l'anno scorso Siamo pronti Possiamo andare A simulare Tutta la stagione Sono carico Andiamo a vederla Allora primo giugno 2023 Torniamo indietro E vediamo com'è andata Allora perso Perso Vinto 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 Perso Vinto con Gesù Vinto con l'Inter Fiorentina Io Vengo perso con Venezia Perso con Spezia Vinto al Bologna Pareggiato Pareggiato Vinto Vinto Bene Vinto Perso Pareggiato Perché mi ha affrontato il Genoa Ah vabbè andato in ritorno Perso con il Perso Pareggiato Vinto con la Roma Perso con il Napoli E pareggiato con il Milan Vinto Perso Perso Vinto Perso con il Venezia Ormai Perso Vinto Pareggiato Vinto Perso Vinto Vinto Vediamo un po' Settimi 41 di 41 di Overhaul Qui ci cacciano ragazzi Allora fatemi capire una cosa Fatemi capire una cosa Settimi La Coppa Italia L'ha vinta La Fiorentina Che è arrivata Nona Niente Manco in conference Andiamo Manco in conference Manco in conference Ma com'è possibile Ma com'è potuto accadere Scusate Fatemi vedere un po' Giocato All'altro Lloris E che è sceso Di Mortangue Rieri Lloris Quanto vale Lloris 10 milioni Già salito Radunovic Sale di 1 Va a 71 Bene Aresti Scende di 6 Ciao Aiki sale di 3 Va a 79 Solo che Aiki Selle di una mossa Arrivata a 80 Miangue sale di 1 Va a 72 Mi sembra un buon punto di partenza Lovato Sale di 3 Va a 79 Bravo Lovato Tutti e buon Un rinnovo di contratto A te l'ho offerto troppo basso Lukebo Lukeba Lukeba Sale di 3 Va a 81 Meno male Qualcuno che ha 80 C'è arrivato Russo Sale di 4 Arriva a 74 Va bene Russo Carboni sale di 2 Va a 73 Va bene Carboni Anche a te No Obert sale di 2 Altare sale di 1 Anche so delle pippe Gusto sale di 4 Arriva a 82 Attenzione a Gusto Ragazzi qua tocca Le vai alla clausola Bellanova sale di 1 Arriva a 74 Non so perché Bellanova Voglia un rinnovo di contratto Non ho la più qualità Zappa sale di 1 Arriva a pure Zappa Ma è in sul mercato Fa cagare Vabbè Velasco sale di 3 Arriva a 81 Bravo Velasco Solo che t'ho comprato Mo già vuoi rinnovo Ahmed sale di 1 Va a 64 Ahmed ha fatto cagare Vuole un rinnovo Nico González sale di 3 Va a 81 Bravo Nico González Tu sì che ti meriti un rinnovo James sale di 5 Addirittura Va a 84 Ragazzi questo è fortissimo Rog non sale E lui però vuole il rinnovo Geniale Mamma mia 10 minuti Non te lo regalo Awar sale di 3 Va a 85 Sale di 1 Gaston Pereiro Va a 76 Awar non vuole il rinnovo Gaston Pereiro sì Bene Vimmer sale di 3 Va a 81 Bravo Vimmer Da alcuni sono saliti Tramoni sale di 2 Va a 67 Solo che è stata un po' La delusione di questa stagione Simeone sale solamente di 1 Va a 82 Gagliano sale di 3 Va a 69 Che se sei ceduto in prestito Seter sale di 1 Va a 63 Allora Vabbè vola di più Vedi offerte per Gagliano Non ci sono Perfetto Gol Situazioni di questo tipo Vediamo un attimo Allora 17 con Simeone 10 a Awar 7 per Eiro Malino 11 assist Jones 10 a Awar Regà qui bisogna smuovere un po' La situazione Perché abbiamo 41 di overhaul E io non voglio rischiare Di essere esonerato Per delle cazzate Non mie In realtà anche mie Però non mie Allora capiamo un attimo I giocatori in scadenza Che questi sono fondamentali Da capire Nessuno Ci posso chiedere Ci posso chiedere Nessuno Ci posso chiedere Ragazzi Vabbè Qualcuno Dobbiamo pure rinnovare Il contratto Se no si lamenta Però che nessuno Sia in scadenza È assurdo Capiamo quello Che vogliamo fare Ioris Se potrebbe pure far partire È stato un anno bellissimo Grazie Ioris Poi Aiki Vabbè Lo lasciamo titolare Lovato Solo raga Che sta gente Si deve dare una mossa Perché comunque Non possiamo aspettarli Sempre anni e anni Cioè Cioè pure Lovato Mi è arrivata una certa In cui non c'è Poi ancora Per 79 Lovato Cioè Date una svegliata Cavolo Obert Si vende Cosa ho fatto Obert Ho detto che si vende Non che gli cambiò I connotati Altari si vende Basta È arrivato pure altare Gusto Bella nova Zappa Se riesco Lo vendo Ma zappa tanto Non so Caga nessuno C'è un troppo Largo Velasco Hamed Gonzales Johnson Di Dolari Curfalidis Ragazzi Facciamo così Però lo vendo Curfalidis Awar Gaston Pereiro Awar vuole il rinnovo Attenzione Vuole il ritocchino Awar Bimmer E Tramoni Simeone Vabbè Gagliano Me lo prestiamo Ceder Allora io credo che Ceder innanzitutto Chiese rinnovo Ecco C'è Chiese Lo lasciamo In panchina Simeone Vendiamo Simeone Cambiamo la punta Io cambierai la punta E il portiere C'abbiamo 43 milioni Di budget Vediamo un po' se c'è qualche calciatore Di quelli che abbiamo messo in lista Che sono in scadenza Beh l'unin Ma è scarso Lui c'è in scadenza Ma Mardashvili Dai prendiamo Mardashvili Sto tipo Prendiamo Perché Secondo me È buono Allora 23 milioni Vale Quindi noi gliene offriamo 20 Dovrebbero accettare Perché in scadenza Infatti accettano Benissimo A tutti i soldi Li spendiamo per la punta Cioè i soldi che ci rimangono I soldi che Facciamo dalla gestione Di Ioris I soldi che facciamo Dalla gestione Di Simeone Li spendiamo tutti Per la punta Quindi Mardashvili Diventa importante Va bene così 4 anni di contratto Ignoriamo la clausola Ignora No Ignoriamo la clausola Gli facciamo No ragazzi 50 mila Gli facciamo E questo potrebbe romperci I coglioni C'è sta gente Prende 100 mila Qui Sugli 80 Quindi va bene così Per quanto riguarda l'attaccante Non lo so Vi dico la verità L'attaccante bisogna un pochino Valutarlo Bisogna mettersi a studiarlo Perché al momento Non ho idea di chi pia davanti Allora io vi dico chiaramente Che molti calciatori Sono intoccabili Intanto vinciamo dono il Tottenham Amorato un'offerta per a War Ma a War non si tocca Secondo match contro il Leicester Cerchiamo di vincere Perché sono 10 milioni Ho visto il torneo che costa di più Match contro il Siviglia Vediamo un attimo Perso Dai ma siamo usciti come degli allocchi Vabbè ci hanno dato 2 milioni E' stato Gagliano al suo Tempton per un anno Venduto Simeone per 60 milioni al Brydon Questo voto tocca prendere la punta Ma prima vendiamo Ioris per 15 milioni e mezzo All'Everkusen Ma che cos'è ragazzi L'imprenditoria Che cos'è l'imprenditoria Cioè mamma mia Allora ho mandato a seguire 1400 attaccanti Abbiamo un sacco di soldi Circa 100 milioni per prendere la punta E io voglio rinforzare solo quel ruolo là Quindi per quanto mi riguarda Bisogna solamente aspettare Che ci facciano sapere qualcosa Su tutti gli attaccanti Che siamo andati a cercare Allora arriviamo al 1 agosto Così capiamo anche come muoverci Perfetto Dovremmo avere più o meno Tutti i nomi degli attaccanti Io direi che dovete ritarli dal più forte Vabbè Blauic e Osiman Non li prenderemo mai Perché 100 milioni non ce ne abbiamo Cioè ne abbiamo appena 100 Ma insomma sono cifre Osiman ce ne chiederanno 150 Pagedà mi piacerebbe prenderlo Ma non è questo il giorno Perché il Brighton sta leggendo Che aveva offerto 100 milioni Simone ok Malen Malen è il più forte degli attaccanti Che sono da cercare Sì però non è che sia Il fenomeno della storia Cioè Boh Aspettate un attimo Fatemi ragionare un momento Arrivato a risultare tutti gli attaccanti Cavolo Non lo so vogliamo fare un tentativo Per provare a prendere Osiman Però io ho i miei dubbi Che riesciamo a prenderlo Offriamo 100 milioni Vediamo che ci dicono 152 E' quello il problema raga Cioè io posso anche provare a A alzare altre cose Ma io 100 milioni C'ho Poi più di quello non c'ho Te posso dire che ti do il 20% Della rivendita Però loro vanno 152 152 non ce l'avrò mai Ma mai proprio Ti potrei dare 100 più Gonzalo Pereiro se vuoi 116 Eh Eh magari calano Magari calano 101 più Gonzalo Più Gaston Poi che dico Gonzalo Pereiro Gaston Pereiro 107 102 più Gaston Pereiro Hanno accettato Adesso bisogna capire se Gli ha la famo però Con sti sordi A pagare lo stipendio Osiman Che prenderà un botto Vediamo Quanto prende Osiman 120 Allora famolo importante Lui vuole essere cruciale Ci sta Ragazzi Riusciamo a prendere Osiman Abbiamo fatto il colpaccio Stanno andiamo in Champions Allora Accettiamo Quello che ci viene richiesto Ma Osiman ragazzi Non è Madonna Se vabbè Mando ragazzi Trovano tutti sti sordi Oh Ma poi Che so Che cos'è sta roba 104 più 900 euro No Allora Perché vogliono sti bonus Sti soldi bonus Che noi non abbiamo Allora Offriamo 104 Raga Non è esattamente Della cifra Ma va bene così Bella roba Non ci posso credere Abbiamo preso Osiman davanti Non ci posso credere Non ci posso credere Adesso in realtà Bisognerebbe provare Con 0 euro 0 centesimi 0 tutto A prendere un trequartista Ora Magari parte Un giocatore Con cui non ci facciamo nulla Vediamo un attimo Ecco Ci arriva un milione e tre Per altare Magari c'è casca Magari con quei soldi Andiamo a prendere Un trequartista Ma anche con 100 mila euro Vi va bene Oppure lo prendiamo svincolato Boh ma che ne so Allora Altare è partito Innanzitutto Eh c'è Barclay Che è svincolato Raga Prendiamolo Va bene Per il Cagliari Barclay Insomma Anche che fine abbia fatto Barclay Va benissimo Per il Cagliari Riusciamo a prenderlo Sì Turnover Eh accetta pure Turnover Due anni Gli ne facciamo tre Almeno abbiamo il panchinaro Alla Gaston Pereiro Ignoriamo Ma che cazzo Ma sei pazzo fratello Io va bene tutto Ma insomma Ma dai Ma quanti soldi vuole questo Ma non può essere No Vuole un botto di sordi Raga Termina trattativa Chi sono un culo a Barclay Mi serviva la panchina a me Li trovavo tutti quei sordi io Ma voi siete matti 60 mila settimana Per Barclay Che mi doveva fare la panchina a pista Se già non c'ho una ira Toh vendiamo pure Zappa Almeno ci fanno due spicci Ecco così Piegamo Barclay Veramente No Zappa ha rifiutato il trasferma Allora sei stronzo Zappa Allora sei proprio Una zappa di merda Sei Mannaghe nervi Vabbè In casa col perno Pareggiamo 0 a 0 Benissimo Guarda proprio quello che volevo Venuto Curfalitis Per 2 milioni e 2 Questi sono i soldi di Zappa Adesso lo possiamo prendere Tranquillamente Sì Zappa Volevo dire Ma che azza si chiama Ma dove sta poi De Barclay No Ha firmato con l'Arminia Pezzo di Arminia Vabbè Piamo Ma che ne so È il primo che ci capita a tiro Piamo lui Aymar Oroz Ma chi è Ma chi è Vabbè Lasciamo verde Una promessa Ma mi va bene Solo per avere un panchennaro Sulla 3 quarti 5 anni di contratto Vuole 3 anni Ma perché 4 dai Ignoriamo la clausola No raga Gli ho offerto 10 mila Alla cifra ridicola Io non ce la posso fare Io non ce la Ma chi è Oroz Mi spiegate chi è Oroz Per prendere più di 10 mila Niente Andiamo avanti Match con l'Udinese Vinciamo 1 a 0 Mi ha finito il match Oh C'è la conference Raga Ghent Questi non so chi siano E quest'altro Non so chi siano Allora Interesse per Ramos Interesse per Ramos Allora Ti volevo dire Io volevo quel giocatore lì Che ti avevo detto prima Quindi Ando sta A meno che in sé Oroz Ecco qua Arriviamo Oroz Ma mi dici tu quanto vuoi Oroz Almeno facciamo prima Io non ho voglia di stare qui A perdere le ore Appresso a te Promessa Una promessa è una promessa Oroz è una promessa 5 anni Ora mi dirà 3 un'altra volta 4 anni di contratto Dai 4 anni Accettato Ignoriamo la clausola Non mi dici quanti ci vuoi Ti vuoi 40.000 Vanno bene Ti vanno bene Ok Meno male Almeno Oroz Quanto c'hai 12 70 Eh vabbè Un buon trequartista Va bene così Perfetto Allora la squadra ce l'abbiamo E questa qua Io adesso ho da mettere i piani di crescita Speriamo sia abbastanza lunga Soprattutto perché Facciamo la conference Non l'avevo messo in conto la conference Però Speriamo di sì Dai Andiamo a giugno E vediamo come va Io metto i piani di crescita Nel frattempo Allora Siamo al primo giugno del 2024 Vediamo come è stata la nostra prima esperienza Eh Europea Allora Mars, aprile, maggio, giugno, luglio Eccoci qua Agosto Vinciamo 4-0 con il Ghent 1-2 con quelli Vinciamo 0-3 con quegli altri 2-1 con quelli Pareggiamo con il Ghent 4-1 Siamo passati da primissimi in conference Raga Quindi siamo direttamente agli ottavi Oh Perso 2-1 con i Rangers Eliminati i Rangers 3-1 Eliminato il Barley ai quarti Pareggiato Sarebbe buono raga Ci qualifichiamo direttamente in Europa League Pareggiato con la Z Cazzo Abbiamo messo la finale di conference Abbiamo fatto un gran percorso E siamo arrivati Sesti Eeeh Eeeh Allora fatemi vedere Chi ha vinto la Coppa Italia Allora poi abbiamo vinto una squadra Ok il Milan Milan che è arrivato Quarto Quindi dovremmo essere in Europa Abbiamo fatto un upgrade Torino Quarto Quinto tra l'altro Abbiamo fatto un upgrade Loro sono non contentissimi 65 In Coppa Italia Come è andata? Scusate ho sbagliato A cliccare dove dovevo cliccare Ma per cliccare dovevo cliccare Dove dovevo cliccare Coppa Italia Eeeh Ma la Coppa Italia l'ho già vista Vabbè però vede noi dove siamo arrivati Perché Questa cosa Ah no Eravamo usciti con lo Spezia Mi ricordo un cazzo ragazzi Mi sa che sì Eravamo usciti con lo Spezia noi Eeeh No No Eccoci Eliminato qua la Samp Perso la salernità nei quarti Ottimo Era proprio quello che volevo La mia ispirazione di vita era perché Non perdere con la salernità nei quarti Allora Mamardash Vili Sali di 3 arriva 83 Radunovic Non sale Haiti Sali di 3 arriva 82 Miangue Sali di 1 arriva a 73 Lovato Non sale Lovato ragazzi Va cambiato subito Luqueba Sali di 1 arriva 83 Russo Sali di 4 Arriva a 78 Penso che l'anno prossimo Russo è titolare Già quest'anno è quasi titolare Carboni Sali di 2 arriva a 75 Gusto Sali di 3 arriva a 85 Bellanova ha chiesto di esserci Tutti in prestito E lo presteremo Ci terremo zappa per la panchina A questo punto Eccolo lì Bellanova C'era già delle offerte Allora Sto a fare un macello Eeeh Vedi offerte Vedi offerte Bellanova Eeeh Delega Mettiamo un prestito annuale Per Bellanova Che 76 ragazzi Vabbè Comunque lui invece Blocchiamo le offerte Per zappa E ce lo teniamo Velasco Sali di 1 arriva a 83 Hamed Sali di 1 arriva a 65 Hamed ma di cosa ti lamenti Ma cosa chiedi più Vabbè Nico Gonzalez Sali di 1 arriva a 82 Nico Gonzalez pure Pian pianino Tassaro dopo tassaro Sta crescendo Jones Sali di 3 arriva a 87 Rog Rog Continua Ognihan A chiedermi il rinno Ognihano non sale mai Auar Ci sono 3 centrocampisti Che tocca comprarne uno Auar Sali di 3 arriva a 88 Oroz Bravo Sali di 3 arriva a 73 A destra abbiamo Vimmer Che sale di 1 arriva a 82 Tramoni Sali di 1 arriva a 68 Vabbè ma va bene Non è panchinaro Va bene Però chiede il rinno Osiman Sali di 2 arriva a 89 Cetera Sali di 1 arriva a 74 In prestito Cagliano Non sale Bravo Cagliano Richiamiamolo Perché mi sa che Sì vedi c'è il bug Sali di 2 arriva a 72 Allora 24 con l'Osiman 18 Velasco 17 Jones 10 Vimmer Assiste 14 Velasco 13 Jones 8 Vimmer Andiamo Alla prossima stagione Allora Vediamo un attimo Chi ha il contratto in scadenza Radunovic Ti prego rinnovalo Perché non c'ho voglia Di piano Traportiere Perfetto Ceder Se rimane bene Perfetto C'è pure una clausolina Rog Ah Rog se ne vuole Ma Rog Ma battene Mi hanno rotto i propri coglioni Rog Zappa Ok Zappa rimane Gagliano rimane Gagliano Dopo che l'ho prestato Sì l'ho accontentato E tutto quanto Ci mancava Miangue Miangue rimane Perfetto Allora vi dicevo In porta stiamo a posto Per quanto mi riguarda A sinistra Aiki Vuole un rinno Voglio che lo do Ma finalmente è cresciuto E questo era quello Che mi interessava di più Miangue il panchinaro Lovato È arrivato 80 Vabbè Lovato Dai teniamolo allora Lukebo 83 Russo sta crescendo 78 Carboni 75 A destra abbiamo Gusto Madonna quanto è forte Sto Gusto 70 86 76 Belano va Vuole essere presa Dove lo prestiamo Ancora non se ne ha ido Che cazzo Vabbè Zappa rimane a fare il panchinaro Sì sappiamo Velasco E Hamed Centra Nico González Jones Rog Che va via però Vanno presi due panchinari Awar e Oroz A destra Vimmer e Tramoni Davanti Osiman E Ceder E Gagliano Il problema ragazzi è che Io ho detto Vabbè Lovato ce lo teniamo Perché è arrivato 80 Ma penso di no Ma penso di no perché Perché il discorso è che Lovato ragazzi O si mette a fare panchina Che si mette in testa Che dovrebbe fare panchina Non io l'ho rinnovato Oppure E prestiamo russo Potremmo fare così Si presta russo Si va a prendere un centrale Un centrale titolare E lo vado a fare panchina Perché io altrimenti Non ho Cioè 96 milioni Ma che c'è famo Allora Fatemi un attimo Capi un paio Un paio di Migliaio di cose Diciamo che si potrebbe Prendere sto Miguel Santos Da Lione Che ha 84 20 anni Sarebbe perfetto Per il difensore centrale Quindi Gli andiamo a dare 60 milioni di euro 78 ne vogliono Lavoriamoci 68 secondo me accettano 78 non stanno accettando 68 e 8 Hanno accettato In questo modo Possiamo lavorare In un modo completamente diverso Perché poi andiamo a prendere Due centrocampisti centrali Di panchina E lo vado Lo arretriamo a panchinaro Sperando che Insomma capisca E che accetti Di fare il panchinaro 5 anni di contratto Per questo Miguel Santos Giovanissimo E anche molto forte A mio modo di vedere Lasciatemelo dire Contro offerta Rimuovi bonus Avanzo offerta Ci siamo Perfetto Preso Santos E lui sarà il nostro titolare Fino a qua non ci piove Detto questo Quel tipo Cioè Lovato Accetta i gradi di panchinaro Speriamo di sì Vediamo un attimo al volo Eh no Vole essere importante Rifiuto e aspetto Perché Russo Va prestato Io vedi Santos Carboni Luca e Balovato Rimarrei tranquillamente così E poi a centrocampo Va fatta qualcosa Come lo anticipavo Poco fa Abbiamo tanti soldi Ancora Guardate eh A Rog Rog Madonna così scarso Eh Rog Pensavo Ho detto Ma c'è qualcosa Che non va Invece no Va tutto bene 16 Più 5 e mezzo Di Rog 29 e 3 22 E 3 Dai 29 e 3 Raga 29 e 3 Sono troppi Sono tutti i soldi 23 E 3 Accetta sta cifra Dai 29 e 3 Palle Ma che c'è di fa Io ho la panchina 24 e 3 Hanno accettato Perfetto Lo volevamo dall'inizio Della rebuilding Ken Taylor Farà panchina E' chiaro Perché comunque abbiamo Tutti i giocatori più forti Però E' già un primo passo 22 anni 78 E' giovane In rampa di lancio Non mi sembra male I termini Cito dispari Ignoriamo la clausola Rimuoviamo bonus Avanziamo l'offerta Accettiamo Perfetto Accettiamo E' fatta Preso Perfetto Detto questo Come vi dicevo A questo punto Abbiamo bisogno di un centrocampista Avanziamo più un euro Quindi prendiamo tipo uno svincolato Aspettiamo 10 secondi Aspettiamo tipo Torneo precampionato Prendiamo uno svincolato A centrocampo In modo che Ce l'abbiamo Allora Prendiamo lui Non so chi sia Ger Rodriguez Ma tanto me ne frega niente Mi serve solamente Perché ho bisogno Di un giocatore in più A centrocampo E avrei preso pure Tu sia qua pelata Cioè Me giuro me ne frega proprio niente Beh però 23.500 Se li pupa E 200.000 alla firma Quindi secondo me Almeno 70 Ce l'ha 72 19 anni Perfetto Allora Ve l'ho detto Dovremmo prestare Il nostro campioncino E dopo siamo pronti Dopo siamo pronti Possiamo andare già a simulare Vediamo un po' che esce fuori Dal turno precampionato Mi ho fatto 4 punti Eccola qua L'offerta di prestito Madonna però Con il diritto di riscatto No Vai russo Vai russo Vai e torna Campione Torna top player russo Intanto passiamo il turno Bella nuova prestato Eh c'è la Roma Io preferirei darlo alla Roma Se posso essere sincero Perché Uno è perché è la Roma Roma L'altro è perché giocherebbe di più Rispetto che è Manchester United Sicuramente Eccolo qua Lo United sta accettando Ma io aspetto la Roma Io aspetto lui Accetti la Roma Intanto c'è il Paris Saint Germain Si può anche perdere col Paris Infatti perdiamo i rigori Perché siamo degli stronsi Offerta il trasferimento Osiman Col cavolo Noi abbiamo finito ragazzi Praticamente E dai Accetta la Roma Noi intanto accettiamo anche lo United Perché non posso rischiare Di non prestarlo Però spero che vada alla Roma Lo ripeto Russo è andato alla Roma Ha rifiutato invece lo United Perfetto Non è che voglia Lovato Non è che ci abbia ripensato Lovato Vero no Non ci hai ripensato Lovato No è importante Vabbè Ma le che vada andrà via Lovato Lukeba Santos Questa è la nostra difesa Tanto quest'anno Mi interessava rinforzarmi lì Quindi La squadra è questa qua A me piace Metto i piani di crescita E noi siamo pronti Andiamo a vedere quello che succede Primo giugno 2025 Torniamo indietro E vediamo come è andato Il nostro primo viaggio in Europa League Allora vinto con il Leicester Perso con il final Perso con il Malmo Fa ragione Il final Vinto con il Leicester Vinto con il Malmo Forse siamo passati ai sedicesimi Sì Vinto con il Leone Ragazzi Attenzione Perché pure in Coppa Italia Stiamo andando bene Vinto 4 Non è andata con l'Inter Vinto con il Leone Oddio Finale di Coppa Italia Eliminato il Real Madrid Ma che cazzo Uno che ci per il Real Madrid Di Europa League Due come abbiamo fatto Eliminato il Real Madrid Va bene siamo ai quarti Eliminato il Rennes Vinta la Conf L'Europa League Non la Conf E si è vinta anche la Coppa Italia Cazzo La Juve in finale 4 a 1 Asensio Non ce l'abbiamo Vinto con il Milan In campionato Siamo arrivati terzi Ragazzi È stata un'annata pazzesca È stata un'annata giusta Proprio per il salto di qualità Ma Mardashvili Saledi 2 arriva a 85 Bene 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 Vediamo Vediamo Radunovic Saledi 1 arriva a 72 Aiki Saledi 1 83 Miangue rimane a 73 Santo sale di 3 87 Questo è un fenomeno Raga Questo abbiamo fatto bene A comprarlo È fortissimo Lukeba sale di 1 84 Mi sembra molto 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 buono Lovato non sale Lovato non sale Ragazzi Lovato mi sa che lo vendiamo veramente A meno che non accetta Giustamente di abbassare le pretese Accetta Bene o male Carboni 75 24 anni Non sale Russo non sale Peccato Peccato Ma perché vedi offerte Sul russo che è già offerto Vabbè Gusto Malogusto Saledi 1 87 Zappa rimane a 70 Gran giocatore Zappa Grande vippa No a parte gli scherzi Bellanova Aveva chiesto lui Vero di essere prestato Quindi se lo richiamo Non sale Benissimo Grande Bellanova Un fenomeno Velasco Saledi 3 86 Ottimo calciatore Anche Velasco Stavolta seriamente Ahmed Saledi 1 66 Gonzales Nico Gonzales Saledi 1 83 Jones è arrivato a 90 Ma che giocatore è a Jones Ma che giocatore è a Jones Taylor Saledi 4 Arriva a 82 Anche questo Altro gran giocatore Agher Rodriguez Saledi 3 Arriva a 75 Insomma anche i panchitari Ci stanno crescendo bene A War Saledi 2 Arriva a 90 Giocatore Fantastico A War Giocatore fantastico Oro Saledi 2 75 Vimmer Saledi 2 84 Tramoni Saledi 1 69 Tramoni forse nel 1400 Nel 2400 Ci arriva Non lo so A fare un peto Osimen Saledi 2 Arriva a 91 Madonna pure Osimen Quanto è forte Caggagliano non sale E Ceter Non sale No Ceter Non glielo rinnovo Il contratto sentito Allora Gol Vediamo un po' 38 Osimen 21 A War 15 Jones Assist 13 Velasco 12 Jones 11 Nico Gonzales Regà È tanta roba È tanta tanta roba Allora Cerchiamo di capire Cosa fare Della nostra vita Perché l'anno prossimo È il 2026 E noi faremo la Champions Per la prima volta Perché giocheremo Da testa di serie Tra l'altro Perché abbiamo vinto L'Europa League Una Champions Che secondo me si può anche passare Poi dobbiamo incrociare le Di parte Dipende anche dal girone Però conta che è testa di serie E non testa di minchia E quindi si può anche passare Dai Andiamo a vedere quello che succede Andiamo alla stagione dopo Abbiamo vinto i nostri primi trofei Europa League E Europa League e Coppa Italia dopo la finale di Conference Adesso c'è la Champions Allora Vediamo un attimo i giocatori che abbiamo in scadenza Per capire come muoverci Raduno vince ogni anno Gli va rinnovato il contratto Questo è l'ultimo L'anno prossimo se ne va Chatter se ne può pure andare Hamed Io se rimane me lo tengo Zappa Non rinnova Se ne va anche Zappa E Bellanova Bellanova dovrebbe rinnovare però E Bellanova rinnova Perfetto Bellanova rinnova Allora fatemi un attimo capire Qui cosa si può migliorare Ragazzi abbiamo una squadra spaventosa O il terzino sinistro Sì forse il terzino sinistro si può migliorare C'è qualcuno migliore di Aiki sul mercato anche Oppure Vedi già tipo questi sono più forti Però non so Terzini Vanno cambiati Non lo so regà Non lo so L'Amptey Però tutta sta storia Non la faccio per l'Amptey Fatemi vedere se ci sono dei terzini Quasi soldi abbiamo 128 milioni Marra Forse cambiamo anche Vimmer Allora a questo punto Mo ragiono un attimo Eh si potrebbe prendere Nuno Mendes Come terzino sinistro Che vale un bordello Tipo tutti i nostri soldi Però secondo me Se cambiamo un ruolo all'anno Allora gli diamo Aiki E gli diamo 80 milioni Per me accettano 131 senza Aiki Eh 100 Vediamo un po' 131 Mo' cominciamo a fare 100 131 100 131 Però secondo me ci siamo 110 dai Hanno accettato Perfetto Io me lo prendo volentieri Lui me lo metto come terzino sinistro Poi l'esterno destro Decidiamo se cambiarlo o meno Perché se no Prima o poi Aspetta aspetta Quello sale Però Quanto devo aspettare Prima che sale Perché qua ragazzi Ci sono più 6 anni Abbiamo già fatto Non mi sembra che Non stiamo aspettando Ignoriamo la clausola Rimuoviamo i bonus E prendiamoci Nugno Mendes Eccolo qua Diventerà il titolare Forse a questo punto Lo vendo io Aiki Lo vendo E con quei soldi Magari ci prendiamo L'esterno destro Il posto di Wimmer Allora andiamo un attimo avanti Capiamo se ci arrivano offerte Capiamo se ci arriva qualcosa Capiamo se qualcuno Si interessa al nostro futuro Al nostro presente Al nostro passato Ci ha dato un cazzo Maledetti Comunque ragazzi Sentite rumore Perché sto a coger pollo E questo è Tanto è cresciuto Wimmer E è arrivato a 85 Decido di venderlo E cresce Ma allora sei stronzo Tanto ho vinto tutti E tre i match Del torneo precampionato Wimmer venduto per 90 milioni Alla Roma ragazzi E mo preparatevi Perché vedete pure I Aiki per quanto parte Che è pronta a nassere I Aiki Ha già accettato tutto Manca solo Scambio di documenti Nel frattempo Affrontiamo L'Ajax Senza Vincere i ricordi Senza Il nostro titolare a destra E dai Dai vendiamo un posto giocatore Cioè Vendiamo un posto Aiki E' partito 62 milioni All'Atletico Madrid Mamma mia ragazzi Adesso ci abbiamo Un botto di soldi E il giocatore Con cui vorrei sostituire Wimmer Emma Duege Dell'Everkusen Che tra l'altro È scadenza Di tutta sta storia Ma ci facciamo un sacco Ci facciamo niente Tutti i soldi che ci abbiamo 80 milioni Che ne avanzeranno Un'antri 80 86 ne vogliono Potevamo anche Di Desi Ma noi siamo Taccagni come la merda Quindi Ridiciamo gli 80 80 è perfetto 80 accettano 80 accettano Il Leverkusen Ci dà Madweke Poi devo capire Che faccio Tutti il resto Di soldi Perché potrei Farci una panchina Ma non ne ho voglia Allora Cruciale Ma perché ho messo Cosa L'ho messo pure Importante Avrebbe accettato Però va bene Uguale Facciamo Cruciale 5 anni per Noni Madweke Tra l'altro Sono contento Perché oltre Lo scivolo Negli Oris Abbiamo sempre Tenuto un andamento Insomma Da giovane squadra Forse è giusto Osiman È molto difficile Che arrivi dopo 3 anni Però Cioè secondo me Abbiamo fatto una gran cosa E adesso ragazzi Facciamo un ultimo colpo Prima di chiudere Allora vediamo Dov'è che la squadra Può Ma al terzino a sinistro Che cazzo ci fa Carboni Lì Mendes La squadra può essere Rinforzata al posto Di González In realtà Di Nico González Però chi possiamo Prende come centrocampista Centrale al posto Di Nico González Che poi un po' Mi dispiace Perché Nico González Me lo sarei pure tenuto Eh però Se potrebbe prendere Enzo Fernández Che non sarebbe Niente male Per il nostro centrocampo Allora Gli offriamo subito Eh no 90 milioni Non gli offriamo Fiamo subito 80 milioni Vediamo che ci dice 126 Allora facciamo una cosa Scambio giocatori A centrocampo Gli offriamo Nico González Più 50 milioni Penso che sia giusto 86 E la madonna 56 Ragazzi Io non vi sto regalare i sordi Infatti hanno accettato Dai 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 Nico González Se glielo diamo a loro Ci prendiamo Enzo Fernández E quindi Ci rinforziamo anche in mezzo al campo Io penso che per la Champions Sarà che abbiamo una squadra ultra competitiva La veramente ultra competitiva Se questi poi crescono anche Da qui a fine anno È tanta roba Preso Enzo Fernández La squadra è fatta La squadra ragazzi È completamente fatta Cioè non c'è più niente Che io voglia chiedere Al calciomercato Ma niente proprio Qui gioca Enzo Fernández Abbiamo anche dei panchinari In tutti i ruoli Io direi che Quest'anno andiamo così L'unica cosa che vi dico È che se l'anno Se dovesse andare male L'anno prossimo Probabilmente Andremo ad investire Il nostro cash money Su un portiere Che sia più forte De me Ma March Viglia 85 Però al momento Sto bene così Qualcuno che è scontento C'era Secondo me no Solo c'è Ma per me Se ne può anche andare Ci siamo raga Ci siamo Andiamo a simulare E vediamo Vediamo un attimo La finale del primo campionato Come va Intanto che come si dà Persa Perfetto Per non perdere mai le abitudini E sì dai Andiamo a fine campionato Vediamo come va Allora A giugno 2026 Abbiamo affrontato il primo anno Nella nostra Champions League Vediamo come è andata Allora Abbiamo perso la Supercoppa Europa abbiamo vinto No abbiamo perso anche per l'Italiana Bell'inizio di merda Vinto con l'Atletico E c'è qualcosa Vinto col Club Brugge Pareggiato con la Dinamo Vinto col Club Pareggiato con l'Atletico Pareggiato con la Dinamo Per ora abbiamo perso Quindi 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13 Ragazzi Noi siamo anche primi Vediamo un attimo Cazzo Abbiamo perso l'andata Col Bayern Monaco 1, 2 Siamo usciti col Bayern Ma gli ottavi Vabbè ci sta eh Abbiamo vinto la Coppa Vediamo la finale Vinta la Coppa Il percorso di merda Torino, Venezia Ma che è Verona È un po' lì Ma che Vabbè Lasciamo perdere Abbiamo vinto lo scudetto 53 di over all Fantastico Però abbiamo vinto lo scudetto Ragazzi Campioni d'Italia Quindi riconfermiamo la Champions Riconfermiamo anche la testa di serie Mamardashvili Arriva a 86 Radunovic Se ne andrà tra un mese Se rinnova Mi fa piacere No Mendes Sale di 1 88 Miangue 74 Santos 88 Sale di 1 Ragazzi La squadra c'è anche per vincere la Champions Secondo me il prossimo anno siamo Non favoriti Ma tra quelli Lukebo 85 Ecco forse Si può sostituire lui Lovato 81 Carboni 76 Russo non è salito per niente Lo richiamiamo Che peccato raga Che peccato Carboni vuole un rinnovo Rinnovino glielo diamo Glielo concediamo Gusto Fatemi vedere quanto c'è di contratto 3 anni Perfetto Gusto 88 Gli rinnoviamo il contratto Bellanova 77 Zappa 71 Ha chiesto di essere ceduto Però è un bug Guardate L'innovo a Zappa E rimane Ma Zappa Io ovviamente volevo venderlo Vabbè Non so perché Io rinnovo del contratto Velasco Sale di 2 Arrivato 88 Bravo Velasco Il tuo lo fai sempre Hamed Non sale Vuole ancora il nuovo Hamed Ma perché non ti prendi anche me Enzo Fernandez Sale di 1 Arrivato 87 Curtis Jones Sale di 1 Arrivato 91 Hager Rodriguez Sale di 1 Arrivato 76 Taylor Sale di 2 Arrivato 84 Quindi bravo Taylor Awar Sale di 1 Arrivato 91 Madonna sono saliti tantissimo Horoz non sale Madue che arriva 88 Quindi anche Madue che bravo Tramoni Osiman Arrivato 92 Gagliano Cetar Ha chiesto di essere ceduto Per me se ne può tranquillamente andare Gol 33 Osiman 20 Jones 16 Fernandez 15 Madue che assist 15 Awar 11 Jones 9 Fernandez 8 Velasco Beh mi sembra buono Beh mi sembra molto Molto buono Andiamo all'anno prossimo E quella dell'anno prossimo Deve essere la squadra Che vincerà il campionato Cioè il campionato La Champions League Allora Ho rifiutato il torneo Precampionato Perché insomma Siamo maturi Per non giocarlo Tanto abbiamo una marea di soldi Non ci facciamo più nulla Alcuni giocatori Sono scontenti Gli rinnoviamo il contratto Ad altri Gli va rinnovato il contratto Punto Adesso capiamo un attimo Che fare Allora Quelli in scadenza Sono Ceter Vabbè Lovato Che se rimane A me fa molto piacere Rimane Oroz Deve rimanere per forza Perché non c'è Poi da ricambiare Al trequartista Carboni No Carboni Se ne vuole andare Allora per quanto mi riguarda Lo vendo Bellanova Vediamo un po' Bellanova rinnova Fa anche rima Tramoni No Zappa No Cioè Tramoni In realtà Tramoni lo teniamo Dai dobbiamo aspettare Che arriva a 70 Abbiamo aspettato tutta la vita Miangue Che fa Miangue Rimane? No Miangue pure se ne vuole andare Per quanto mi riguarda Raga Li lascerò andare Ma all'anno prossimo Perché non ho voglia di Rifare un mercato completo Ho detto questo Quanti soldi abbiamo? 169 milioni Ora Dove dobbiamo migliorare la squadra? 87 88 85 88 89 88 87 91 91 88 92 Forse Luqueba Forse Luqueba È l'unico giocatore Che può essere cambiato Perché poi per i test È inutile Andiamo a prendere i giocatori Che prendiamo sempre Solamente per il gusto Di prendere qualcuno Allora il discorso È che sto cercando Dei calciatori veramente forti Perché se devo Sostituire un 85 Con un 86 Me lo tengo Deve essere almeno un 88 Raga So finiti i giocatori Ci avevamo tutti noi No in realtà sono finiti i giocatori Perché ci avevamo tutti noi Io sono molto famosi tutti quanti Quindi Quindi questa è la verità Eccolo Otto Krause Almeno un Regen Prendiamo lui Dai Lui sarà il nostro titolare dietro Allora Gli diamo in cambio Lo dico subito Prendetevelo Guarda se no mi arrabbio Gli diamo Carboni Perché lo so che loro lo volevano Un sacco Più 90 milioni 130 euro senza Carboni Sta cosa però senza Carboni Ragazzi è veramente Una cosa vergognosa Perché abbiamo che Carboni Mi tocca vendelo 92 132 Proviamo 100 108 Eeeh 100 dai riproviamo 100 Hanno accettato Perfetto Krause ragazzi 8 Krause È proprio l'uomo che ci serviva Però è l'uomo che ci serviva Appunto Cruciale L'accettiamo Stiamo facendo dei progressi 5 anni di contratto Accettiamo tutto Gli offriamo 150 mila Accettato Perfetto Krause è nostro L'unica cosa che stavo pensando Ehm No Però raga Il portiere mi tengo questo Perché è inutile che lo vada a cambiare Cioè è veramente È proprio inutile Piuttosto posso andare a prendere un Po' dei panchinari Giovani Perché c'ho 60 milioni Non so che farci Aspettate Aspettiamo un attimo Aspettiamo 3-4 settimane Vabbè intanto Vendiamo carboni Che non c'è Vamo niente Ecco Tipo questo qua No Rios Si può anche prendere Dal granato 19 anni 83 Lo prendiamo per la panchina Quanto costa Madonna Ma perché costa così tanto Prendiamo solo lui Praticamente Vabbè Però 80 milioni Ne vogliono 130 E chi cazzo ce li ha Non pensavo che venissero così tanto Gli togagliano Lo so che loro Lo volevano Me lo stavano chiedendo Con tutto me stesso 80 Ah non ce l'avevo proprio Regà No Non ce l'avevo Inutile Non posso fare niente No no Non ce l'avevo proprio Niente Beh Come se non avessi detto niente Mazza Sacco di sordi volete Cioè A sto punto io era Spadori Scusa Però c'ha 26 anni Malen Pevio è troppo importante Questo fa cagare Questo no Questo no Pastora Non so chi sia Prendiamoci se no Boadu come panchinaro E chiudiamo così il mercato Visto che tanti in attacco Con un panchinaro Ci serve L'avevamo detto Gli offriamo 50 Tondi tondi Loro vogliono Luca e va Più 19 No A questo punto 49 Andiamo a ribasso Vediamo che ci dicono 68 Che palle ragazzi Mi voglio dare troppi soldi Perché ma la gente fa mercato 58 68 60 No 69 60 Ok è accettato Perfetto Andiamo a prenderci Boadu Regà Regà Deve essere importante Che palle Mi tocca di cacco Boadu Vabbè Dura un cazzo Quest'anno Boadu L'anno prossimo Veniamo già Vabbè Dai l'abbiamo preso Fine Chiudiamo così il mercato Detto questo Adesso vado a mettere Pianete crescita E noi ci vediamo a giugno Noi ci vediamo a giugno E vediamo quello che succede La squadra ce l'abbiamo Ciao Primo giugno 2027 Torniamo indietro E vediamo come è andata Allora Vinto col Tottenham Vinto col No l'Inter ce l'abbiamo Vinto col Club Brucio Vinto col Siviglia Vinto col Tottenham Vinto col Siviglia Vinto con Madonna mia Sei su sei Perso con il City Vinto con il Eh sì 2 a 1 2 a 1 E quindi Siamo ai quarti di finale Attenzione Eliminata la Juve Vinto tra due con il Milan Campioni d'Europa E campioni anche della Coppa Italia Vediamo se abbiamo fatto il triplete Vediamo se abbiamo fatto il triplete Triplete ragazzi Triplete il nostro Cagliari Ha vinto tutto E è proprio una bella squadra Il nostro Cagliari È proprio una bella squadra Abbiamo fatto un lavorone ragazzi Abbiamo fatto un lavorone Sono proprio contento Mamardashvili Chiudeva un 89 26 anni Non abbiamo più il secondo portiere Cazzo Non l'ho scordato Meno male che non si è rotto mai Suppongo Mi auguro Anche perché se no Capitale Ottavi Quarti Semi Semifinali Sì Champions 6 gironi 7 8 9 10 Sì Tutta giusta Meno male Vabbè Uguale Va bene così Mamardashvili Ok Nuno Mendes 90 24 anni Miangue 74 30 anni Santos Del Santos 90 23 anni Krause 88 23 anni Russo 78 22 anni Luquebao 86 24 anni Lovato 82 27 anni Adesso abbiamo Gusto 91 Malogusto 91 24 anni Bellanova 77 27 anni Oltre che Zappa 72 27 anni Che andrà al Mid-Hilland Esterno sinistro Alan Velasco 89 24 anni Hamed 67 23 anni Al centro abbiamo Enzo Fernandez 90 26 anni Curtis Jones 93 26 anni Rodriguez 77 22 anni Taylor 85 25 anni Della tre quarti Abbiamo Awar 92 28 anni Oros 76 25 anni A destra Madueke 91 25 anni Tramoni 70 24 anni In attacco Osimene 94 28 anni Gagliano 74 26 anni Eboa 84 26 anni Vediamo i gol 29 Fernandez Madonna Fernandez 27 Osimene più Fernandez di Osimene 29 Madueke 14 Jones 10 Velasco assist 15 Jones 11 Fernandez 7 Madueke Una squadra Pazzesca Madmer Mardash Billy 89 Krause 88 90 Santos 90 Mendes 91 Gusto 90 Fernandez 90 Johnson 92 Siamo campioni Di tutto Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Io vi ringrazio Per aver visto questo video Tantissimo Mi piace Buon Ciao 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 Ciao